I cani sono i migliori amici dell'uomo, ma diciamocela tutta, anche l'uomo è il migliore amico del cane. Ma chi dei due assomiglia di più all'altro? Scopriamolo insieme! Secondo lei è più il suo cane che assomiglia a lei o è lei che assomiglia al suo cane? Penso che sia il mio cane che assomiglia a me. Qual è il pregio maggiore? Del cane? Di tutti e due. Quello del cane sicuramente è essere molto buona e venire con noi, insomma si è abituata molto alle nostre esigenze. E il mio è quello di averlo perché siamo molto contenti. Cosa ti assomiglia al tuo cane? Colori. La caratteristica principale è buona. Che cosa le assomiglia al suo cane? A me? Niente. Non c'è niente. Cioè che ci lega, a parte l'apporto d'amicizia e d'affetto, che si nutre per una bestia. Secondo te è il cane che assomiglia al padrone o il padrone che assomiglia al cane? Io spero il padrone al cane. Che carattere ha il tuo cane? Come vedi un po', è geloso di me. Ecco. A quale dei tre cani secondo lei assomiglia di più? A un nero. Perché? Perché riscontra il mio carattere, perché il mio, ufficiale, sì. Che cosa ha di simile al suo carattere? È dolcissimo, buono, affettuoso e amoroso. I cani assomigliano ai padroni? Ma non lo so, dipende da, boh, forse quando uno lo sceglie e vede un po' come si rispecchia in lui, non lo so, qualcosa ci deve essere. In cosa le assomiglia a lui? Beh, è presto per dirlo, sicuramente è nervoso avanti a me. È molto accettato, insomma. Assomiglio io al mio cane. Cos'è che vi accomuna? È il carattere, un po' il modo di essere un po' aggressivo in dei momenti. Il pregio maggiore che ha? Che è bello. In cosa assomiglia al suo cane? In cosa io assomiglio al cane? Oppure il cane a lei? Nella lentezza, perché è lento, è preciso e lento. Va piano, soffre il caldo, soffre il caldo come me. Da quanto tempo siete insieme? Sette anni. In cosa le assomiglia al suo cane? Fa casino come noi. È un cucciolo? Sì, ha tre mesi. Davvero poco comune. Questa no. Beh, vediamo un po' chi arriva adesso. Mmm, un po' troppo bassa. Troppo vecchia. Troppo giovane. Ehi! Questa sì! La più deliziosa creatura su quattro zampe. Se soltanto la ragazza fosse... Però, è molto carina anche lei. Troppo bello per essere vero. Non avrei trovato un'altra coppia così, neanche se avessi cercato cento anni. E se non è di l'orchestra le che fa conoscenza. è molto carin theology. E io sono molto carina, I sono molto carina. Grazie.